Buon poveriggio amici, buon poveriggio a tutti quanti, come sempre il mio percorso in giro per la Calabria, tra il verde, la montagna e il vento, tutto quello che sta accadendo nel nostro percorso. Per ringraziare come sempre tutti gli amici d'Italia all'estero il tempo di farsi autorizzare, di entrare nel contesto della diretta, perché vi dobbiamo dire alcune cose, alcune cose che devono sapere i calabresi, quelli onesti, perché noi parliamo, scusate che c'è vento, sono all'altezza quasi di sera a San Bruno, ma devo parlare a quei calabresi per bene, a quei calabresi onesti, quelli che in questo momento con una stampa serva del sistema, giornalaio, personaggi squallidi nel mondo della comunicazione, avvelenati per la mia presenza da Giletti, butto nel fango, dicono che noi stiamo infangando, io e Giletti stiamo infangando la Calabria. Nel fango la Calabria ce l'hanno messa i politici, i giornalisti corrotti, giornalisti che in questo momento si stanno occupando anche del nostro modo di fare televisione, quei giornalisti che hanno sistemato generi, figlie e che si sono sistemati anche loro nel mondo della politica, figliacchi e disgraziati, infami che non siete altro. Noi infanghiamo la Calabria, noi la stiamo raccontando, ve la siete derubata, ve la siete mangiata, avete rosicato anche l'osso. Domenica sera, quando eravamo davanti all'ASP di Cosenza, se non fosse per quelle associazioni che io avevo invitato, nessuno, nessuno è venuto spontaneamente davanti all'ASP di Cosenza, nessun cosentino è venuto. E di che cosa vi lamentate? Che poi si candida Pino Gentile con 35 anni di politica e che il Gentile e i suoi compagni di Meranna hanno massacrato la sanità calabrese. Perché non siete venuti? Avete avuto gli attributi? Non avete avuto il coraggio? E poi dite che noi stiamo sberdando la Calabria, noi stiamo raccontando la Calabria. Vergognatevi, perché a Cosenza mi sarebbe aspettato un mare di gente, nessuno è venuto spontaneamente. Quella gente che avete visto collegata domenica scorsa davanti all'ASP di Cosenza era stata invitata da Lino Polimeni. Se non fosse per me nessuno era presente lì davanti all'ASP, perché ve la cacate, perché vi conviene mantenere il sistema, vi conviene tenere l'aggancio. E poi il buco di reggio Calabria, qualcuno si meraviglia, raccontate quello che c'è di buono. Ma che cosa dobbiamo raccontare quello che c'è di buono? L'aggancio dobbiamo scappare dalla Calabria, i nostri figli devono scappare dalla Calabria, vigliacchi che non siete altro, vigliacchi, infami, codardi, siete codardi. Perché non avete coraggio, volete rimanere attaccati al sistema. Non è vero che volete cambiarlo, perché se volevate cambiarlo, amici di Cosenza, domenica sera alle 20.30 ci dovevano essere 5-10 mila presenze. Non inventatevi l'assembramento, perché c'era spazio per tutti. Nessun cittadino di Cosenza è arrivato lì spontaneamente. E come volete cambiare la Calabria? C'è solo un'alternativa in questa terra. Solo un'alternativa c'è in questa terra. Il verde è la speranza di questa terra. Il verde è la montagna. C'è solo una speranza. Una sola speranza c'è. Dobbiamo scappare via tutti quanti, perché non c'è salvezza per questa terra. Se si candida Nicola Gratteri alla regione Calabria, allora qualcosa potrà cambiare. Ma se non si candida Nicola Gratteri alla Calabria, non c'è niente per nessuno. Questa terra è persa. Non c'è speranza. Vigliacchi, ve la siete mangiati. Non c'è speranza. Non c'è speranza. Solo un uomo può salvare questa terra. Un uomo solo. Si chiama Nicola Gratteri, che invita voi calabresi di far diventare virale questo video. Di convincere insieme ai messaggi da scrivere a Nicola Gratteri. Lui solo può essere la salvezza per questa terra. E non dimenticate quello che hanno fatto lunedì sera a Rete 4. Vigliacchi, infami, infame, come si chiama? A parte i giornalisti venduti. Sansonetti, Sansonetti vergognati. Sansonetti vergognati, vergognati. Ma non tu, anche Sgarbi vergogna, che chiedeva l'arresto di Gratteri. Vergognatevi, vergognatevi. Siete infami. Avete fatto la trasmissione, quella di Porro, combinata ad ocche per buttare fango su Gratteri. Volete buttare fango su Gratteri? Perché voi a Milano ve la cacate. Perché se arriva Gratteri a Milano vi arresta a tutti. Questo è il problema. Perché ve la cacate. E Mediaset, Berlusconi, si presta a questo gioco indegno. Lunedì sera con Porro è stata la trasmissione trappola per buttare fango a Nicola Gratteri, Vigliacchi. Lui solo può essere il candidato per me in Calabria, alle prossime regionali. Date forza a questo video. Questa è la realtà. Noi non infanghiamo. Noi abbiamo questa terra. Chi parla è perché è legato al sistema. E chi parla male di Lino Ponimeni o di Massimo Giletti che vuole infanghare è perché è legato a questo sistema. Perché non c'è alternativa. Gratteri candidato alle prossime regionali.